Non si muore solo di freddo d'inverno e di caldo per il solo affollamento d'estate nel carcere di Salerno. Si rischia anche per carenze sanitarie. A dirlo Gianfranco Valiante, consigliere regionale del PD e presidente della Commissione Antica Morra. Valiante, insieme al radicale Donato Salzano, al collega Dario Barbirotti e ai rappresentanti dell'associazione Nessuno, Tocchi, Caino, il giorno di Natale, durante una visita al carcere di Salerno, ha potuto verificare la scarsità di medici ed infermiere e la mancanza di cure adeguate, in due casi particolari. Il primo riguardava una donna di origini nigeriane, di cui fu chiesto senza esito il ricovero ospedaliero per una grave patologia al fegato. Ora si è saputo che la donna è stata ricoverata d'urgenza per un'emorragia interna. Altro caso è quello di un giovane affetto dal virus HIV, che avrebbe bisogno di essere curato in ospedale, ma che resta all'interno del carcere. Domani alle 11 la stessa delegazione, che si è recata al carcere il giorno di Natale, andrà all'ospedale di Salerno a sincerarsi delle condizioni di salute della donna nigeriana. Un invito esteso provocatoriamente da Valiante anche al direttore generale dell'ASL, a cui viene chiesto di impegnarsi in prima persona per garantire alla casa circondariale di Salerno il numero adeguato di medici ed infermiere.